Ragazzi, buongiorno! Buongiorno un paio di cacchi! Buongiorno! Oggi vorrei interrogare! Sì sì, ammazzati! Io vado a lavorare! Vorrei interrogare... Giovanni! Eeeh, io non ci sono! Dai, smettila di fare il cretino! Ma dai prof, interroga sempre me! Buongiorno! Ah ma ti sembra questa l'ora di venire? È già la terza! Sono andato a zacco alle storpie! Costano di meno! Vabbè prof, interroghi me e mi suicido! Ma no, interroghi me! Curti, stai un po' zitto che non sai manco leggere! Che cacchi è detto italiano bastardo! Mi posso offrire volontario? Vabbè, interroghiamo Curti! Se hai 20 caramelle e Amal ne mangia 4, quante caramelle hai? 20 caramelle è un cadavere! Niente storia, voglio sentire fumagalli! Scusa, ma io non esisto! Vabbè, sentiamo Gianmirco! Sono carico come una molla! Dimmi la data esatta di quando è scoppiata la prima guerra mondiale! Eeeh, giovedì! No, mercoledì! Eeeh, no, sabato! Sbagli sempre! Primo settembre 1939! Che era un sabato! E vabbè, ti metto due comunque! E cacchio, mi alza la media! Po, lo c'è! Lo c'è! E' la via! Grazie.